Buonasera, siamo qui a Gradior Cup con Marco De Santas, capitano, organizzatore, che sei pure allenatore in campo. No, no, siamo due mister. Avete due mister, addirittura dell'Everton. Vi siete avventurati in questo girone B, insomma, campionato iniziato, avete fatto un tour del force di recuperi. Due parti da settimana. Due parti da settimana. Vi devono arrivare anche i completi, però, insomma, arriveranno. E devo dire, innanzitutto, come vi trovate in questa edizione? Se il livello vi piace. No, fino a molto, fino a molto bene. E ho qualche incertezza, giusto una partita, c'è successo qualche parapiglio, però niente di che, come ci sono successo un'ultima volta, per il resto tutto bene. Ok, ok. Vi aspettate di recuperare, arrivare sulla vetta di questa, tra le prime otto squadre che si giocheranno? Siamo in corsia di sorpasso. Siete in corsia di sorpasso. Beh, oggi avete il buono. Speriamo di fare una bella partita anche oggi. Ho visto che sono una bella squadra. Siamo ben organizzati anche noi, quindi spero che vi pare un bene. C'è qualche elemento oggi su cui basi la tua formazione? Beh, due ragazzi. Abbiamo Audisio, la nostra punta, e Giorgio Covarelli che è centrocampista. Poi anche gli altri, tre acquisti abbiamo. Ottimo, ottimo. Punti anche a Miami? Che dici? È presto per dirlo. È presto per dirlo, effettivamente. Però dai, i risultati sono dalla vostra. Ci sono quante? Sei vittorie? E una sconfitta. 8 gare giocate. Amara. Amara sconfitta contro? E il Totenham. Contro l'ex Atletico Madrid. Lo so, lo so. Va bene, allora vi auguriamo bocca al lupo. Ok. E complimenti insomma per questo inizio a Marco Isapes. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Però se De Rossi ha detto una cosa del genere... Poi la Germania deve essere Germania-Russia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo la situazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.